Da qualche ora siamo oggetto di una campagna mediatica e social vergognosa che ci aggredisce, ci insulta, vogliono fare le manifestazioni sotto le sedi di Italia Viva. È la dimostrazione di come il populismo e la violenza verbale possono ribaltare la verità, la realtà dei fatti. Io sono quello che ha firmato la legge sulle unioni civili contro tutto, anche contro coloro i quali oggi mi danno lezioni sui diritti, ad esempio i 5 Stelle. Ecco, io che ho firmato la legge sulle unioni civili, guardando in camera con molta chiarezza, dico che questa legge ZAN è fallita per colpa, responsabilità e scelta del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.